Liberato Amatuzio, vicepresidente dell'Amatese Mountain Bike, una giornata di sport e cultura qui a Spinete dove si è svolta questa prima prova del campionato regionale specialità Gran Fondo organizzato proprio dalla vostra società. Un onore e un onere per voi aprire il campionato regionale. Sì, 170 partecipanti circa, è davvero una grossa soddisfazione se solo pensiamo che l'anno scorso i partecipanti erano poco più di 100. Quest'anno grazie all'iniziativa del nostro presidente Gianni Caccavelli abbiamo deciso di organizzare una Gran Fondo anziché una XC per illustrare con un attimino tutto il territorio comunale e direi che l'iniziativa è stata davvero, è stata ben riuscita davvero. Come sempre però c'è il giorno della gara dove si mette in scena il lavoro però di tanti mesi anche precedenti perché ricordiamo che c'è stato anche un discorso di pulizia del tracciato quindi il lavoro viene da lontano. Assolutamente sì, il nostro è un gruppo, quello dell'Amatese Mountain Bike, formato da ragazzi veramente volenterosi e con in testa il nostro presidente e il sottoscritto. Il lavoro devo dire è stato duro, lungo, faticoso però quando poi la riuscita è questa le soddisfazioni sono veramente enormi. Un anno importante per voi, tante le gare che avete organizzato, che andrete a organizzare ma anche l'apertura, l'inaugurazione di questa scuola di mountain bike per avvicinare a questo sport i più piccoli. Sì, siamo un gruppo veramente attivo, come diceva lei organizzeremo quest'anno degli eventi importanti e il primo che è stato inaugurato poco più di un mese fa è la scuola mountain bike che vogliamo dare la possibilità anche ai più piccoli di intraprendere questo sport meraviglioso e insegnare ai più piccoli la disciplina della mountain bike.